allora sono qua nel visualizzatore di file pdf di windows 10 in particolare del microsoft edge ok dunque io è il mio standard dunque in automatico si è clicco sul pdf sul mio computer mi si apre come se fosse una pagina del microsoft edge come faccio andare a cercare una parola ok dunque io posso andare qua e trova nella pagina e naturalmente la serie di tasti che mi porta in automatico al trova nella pagina e contro le f dunque se io vado vengo qua faccio contro le f e in automatico qui posso scrivere la parola che cerco per esempio lampada in automatico mi dice che sono 22 e qua nelle zone dove c dove c'è la parola lampada e dunque posso andare tranquillamente nelle varie zone dove è la parola lampada dunque molto comodo ha altre caratteristiche però intanto a me serviva soprattutto andare a cercare dunque contro le f vado a cercare spero di essere stato utile ci vediamo alla prossima arrivederci all'inizio 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 Grazie a tutti.